Nelle scorse ore su TikTok è diventata virale la notizia di un presunto video di Denis Dossio che si può fare un soffocone in mezzo alle montagne e in tanti si sono chiesti se effettivamente questo video esiste oppure tutta quanto una bufala ebbene questo filmato esiste realmente infatti si vedono Denis e questa ragazza farei proprio quello che stanno descrivendo tutte le pagine e commenti su TikTok in questo momento e voi direte ma voglio vedere il filmato no e non dovete neanche cercare di vederlo perché quel filmato è preso dall'holly fans della ragazza quella che fa il soffocone a Denis per intenderci e quindi mandarlo in giro, scaricarlo illegalmente è punibile dalla legge quindi non fate cazzate mi raccomando io non vi lascio filmati perché ovviamente non ve lo metto né qui né su Tigran per un suddetto motivo ma fatemi comunque sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto noi ci vediamo un prossimo video in linea lo studio